Con questo nuovo mandato il sindaco mi ha dato che delega l'accessibilità. Io da anni sono su questo argomento perché lo ritengo veramente un atto di grande civiltà, dover attenzionare tutti su questo problema. Si domani in effetti siamo impegnati le scuole e dedicheranno un momento di sensibilizzazione con i ragazzi e con i loro alunni perché è importante cominciare a capire l'argomento perché è un argomento sensibile, è un argomento che va attenzionato e quindi domani anche le nostre scuole saranno impegnate su questo argomento. Domani pomeriggio parteciperò a una specie di, non so dire il termine in inglese adesso mi sfugge, per cui porterò le nostre iniziative, le iniziative del territorio in questi cinque anni. Spiegherò un po' che cosa abbiamo fatto perché abbiamo fatto qualcosa, innanzitutto abbiamo aperto una bella collaborazione con le associazioni di categorie che sono sul territorio ma anche con l'isola che non isola ma anche con il professor Brischetto. Stiamo lavorando al regolamento per il garante della disabilità per cui nel 2021 anche la nostra isola avrà un garante. Insomma siamo concentrati affinché questa materia veramente possa arrivare nel cuore e nelle persone di tutti perché se ognuno di noi ci si sofferma e pensa che a volte ci sono persone che meno fortunate di noi per cui devono, come devo dire, a volte faticare per poter avere dei diritti che sono proprio alla base dei nostri comportamenti e importante.